E' una partita al cardiopalma quella che si sta giocando sul futuro del comparto sciistico di Prati di Tivo e Prato Selva. Il Tar dell'Aquila non ha infatti concesso la sospensiva alla vendita della Gran Sasso Teramano richiesta dal gestore temporaneo Marco Finori. Il ricorso di Finori aveva di fatto bloccato la vendita degli impianti e la concessione della cabinovia ai fratelli Persia che si erano aggiudicati il bando per 1.590.000 euro. Il Tar ha giudicato che le contestazioni del ricorrente dovranno essere valutate da un giudice ordinario in quanto come si legge nella sentenza nel caso di specie si deve rilevare come la Gran Sasso Teramano S.p.a. è una società mista che a veste privatistica svolge un'attività di tipo strettamente imprenditoriale ed opera per tale ragione in un settore aperto alla libera concorrenza. Corsa dunque contro il tempo per salvare la stagione estiva e per farlo si è appena riunita nella sala consigliare della provincia di Teramo l'Assemblea dei Socii del GST convocata dal liquidatore Gabriele Di Natale per portare a conoscenza in via ufficiale della sentenza. Dopodiché, come già deliberato, si procederà con le procedure di vendita ai fratelli Persia. Un'operazione che si dovrebbe concludere in pochissimo tempo per permettere già dal mese di luglio un'offerta turistica completa. La vendita degli impianti di risalita delle due località sciistiche teramane e la concessione sino al 2029 della cabinovia che resta di proprietà della provincia porterà in sé anche tutta una serie di risoluzioni positive a problemi annosi nei confronti di alcuni comuni montani. Saranno infatti sanati i vecchi debiti con il comune di Fano Adriano e pagati i diritti ASBUC. Marco Finori, dopo aver appreso la decisione del Tar, ha dichiarato di non volersi arrendere e di voler continuare la sua battaglia ricorrendo alla giustizia ordinaria. Questo però non impedirà alla GST di vendere le infrastrutture ai fratelli Persia. E conoscendo i tempi della giustizia, è possibile immaginare che per i prossimi dieci anni a gestire gli impianti di risalita di Prati di Tivo e Prato Selva saranno proprio loro.